In questo tutorial vediamo come risolvere problemi parametrici con l'uso di sistemi lineari. Partiamo da questo esempio. Dato il seguente sistema, determina i valori dei parametri A e B per i quali è indeterminato. Per risolvere questo esercizio, innanzitutto dobbiamo andare a costruire la matrice dei coefficienti che chiamerò D e questa matrice è costituita dai coefficienti di x e di y della prima e della seconda equazione. Allora qui nella prima riga dovrò scrivere il coefficiente di x che A e il coefficiente di y che B. Nella seconda riga il coefficiente di x è 1 e il coefficiente di y è 1. Vado ora a costruire la matrice di x, ossia a partire dalla matrice di, nella colonna delle x vado a sostituire i numeri 1 e meno 2 e questa colonna la ricopio così com'è e vado a scrivere B ed 1. Vado ora a costruire la matrice di y. A partire dalla matrice di, nella colonna delle y vado a sostituire i numeri 1 e meno 2, mentre la prima colonna la ricopio così com'è e allora avrò A1, 1 e meno 2. Ricordiamo che un sistema risulta essere indeterminato quando D è uguale a 0, ossia il determinante di questa matrice è uguale a 0 e DX uguale a 0 e anche DY risulta essere uguale a 0. E allora per stabilire per quali valori di A e B questo sistema è indeterminato, imporrò che questo determinante deve essere uguale a 0 e allora calcolo il determinante A per 1 ed ottengo A meno 1 per B e scrivo B e questa quantità deve essere uguale a 0. Impongo ora che il determinante di x sia uguale a 0 e allora vado a calcolare questo determinante 1 per 1 ed ottengo 1 e poi meno 2 per B è pari a meno 2B ma devo scrivere con il segno cambiato e allora scriverò 2B uguale a 0 ed infine ho DY che devo porre uguale a 0 e allora determino il determinante DY, A per meno 2 e scrivo meno 2A e poi 1 per ottengo 1, cambiando di segno scrivo meno 1 uguale 0. Utilizzando questa relazione e questa relazione potrò andare a determinare il valore di B e il valore di A. Da questa relazione ottengo che B dovrà essere uguale a meno un mezzo. Da questa relazione a conti fatti si ottiene che A deve essere uguale a meno un mezzo. Ancora non ho finito perché ancora devo controllare questa relazione. La prima relazione mi dice che A meno B deve essere uguale a 0 e allora A è pari a meno un mezzo, poi meno B ma B è pari a meno un mezzo e quindi scriverò più un mezzo ma meno un mezzo più un mezzo è proprio uguale a 0 e allora questa prima relazione viene verificata e allora posso concludere dicendo che quando A è uguale a meno un mezzo e quando B è uguale a meno un mezzo questo sistema risulta essere indeterminato. Dato il seguente sistema determini i valori del parametro A in modo che sia determinato. Come prima cosa vado a scrivere la matrice dei coefficienti D. Nella prima riga scriverò i coefficienti di x e di y e allora avrò A meno 1 e 3. Nella seconda riga avrò il coefficiente di x che è A meno 1 e poi come coefficiente di y ho 2. Un sistema risulta essere determinato quando il determinante della matrice dei coefficienti risulta essere diverso da 0 e allora devo imporre che il determinante di questa matrice deve essere diverso da 0. Calcolo il determinante. A meno 1 per 2 ottengo 2A meno 2 meno, apro una tonda e adesso moltiplico A meno 1 per 3 ottenendo 3A meno 3 e questo deve essere diverso da 0. Ottengo così una disequazione in A che vado a risolvere. A conti fatti si ottiene A diverso da 1 e allora posso dire che quando A è un valore diverso da 1 certamente questo sistema è un sistema determinato. Dato il seguente sistema determini i valori dei parametri A e B in modo che sia indeterminato. Come prima cosa vado a determinare la matrice dei coefficienti del sistema e allora scriverò D uguale, nella prima riga vado a scrivere i coefficienti di x e di y e allora avrò A e B. Nella seconda riga scriverò i coefficienti di x e di y della seconda riga, ossia 2 e 2B meno 1. Una volta determinato il valore di D vado a determinare Dx e allora nella matrice D, nella colonna delle x sostituisco i numeri 8 e 4 ed il resto lo ricopio, quindi B e 2B meno 1. Poi determino D y. Nella colonna delle y della matrice D vado a sostituire i numeri 8 e 4 e questa colonna la ricopio così com'è A, 2 e poi 8, 4. Il sistema risulta essere indeterminato quando il determinante della matrice dei coefficienti D è uguale a 0 e Dx uguale a 0 e Dy uguale 0. Impongo allora che il determinante della matrice dei coefficienti è uguale a 0. Moltiplico A per 2B meno 1 ottenendo 2AB meno A e poi meno 2 per B ed ottengo 2B uguale a 0. Faccio la stessa cosa con il determinante di Dx e di Dy. Per Dx moltiplico 8 per 2B meno 1 ottenendo 16B meno 8 meno 4 per B e scrivo 4B. Per Dy moltiplico A per 4 ed ottengo 4A meno 2 per 8 ed ottengo 16 uguale a 0. Da questa seconda relazione riuscirò a determinare il valore B. Da questa terza relazione determino il valore di A. A conti fatti si ottiene B uguale 2 terzi ed A uguale 4. Devo ora vedere se questi due valori verificano la prima relazione. E allora qui al posto di A sostituisco 4 e al posto di B sostituisco 2 terzi. Osservo ora che 16 terzi meno 4 terzi è pari a 12 terzi, ossia 4. Avendo qui meno 4 effettivamente ottengo 0 e allora ho la certezza che quando A vale 4 e quando B è uguale a 2 terzi allora questo sistema risulta essere indeterminato. Dato il seguente sistema determina il valore del parametro A in modo che sia indeterminato. Come prima cosa vado a determinare la matrice dei coefficienti D. Allora nella prima riga scriverò i coefficienti di x e di y della prima equazione e allora avrò 2 ed 1. Nella seconda riga scriverò i coefficienti di x e di y della seconda equazione, ossia A ed meno 1. Ora vado a scrivere di x che si ottiene a partire dalla matrice D dove nella colonna delle x sostituisco i numeri che saranno A più 2 e 2A e allora avrò A più 2 e 2A e poi questa colonna la ricopio così com'è, ossia 1 ed A meno 1. Determino ora di y. A partire dalla matrice dei coefficienti D nella colonna delle y sostituisco i numeri A più 2 e 2A e questa colonna la ricopio così com'è e quindi ho 2A e poi A più 2, 2A. Il sistema risulterà essere indeterminato quando D è uguale a 0 e Dx uguale a 0 e Dy uguale 0. Vado allora imporre che il determinante della matrice dei coefficienti deve essere uguale a 0 e allora ho 2 per A meno 1 ed ottengo 2A meno 2, poi meno A per 1 ed ottengo A uguale 0. Ottengo un'equazione in A che vada a risolvere ed ottengo A uguale 2. Ho la certezza quindi che quando A uguale a 2 il determinante della matrice dei coefficienti è uguale a 0. Vado ora a sostituire in Dx e in Dy al posto di A2. Partiamo con Dx. Sostituendo al posto di A2 ottengo questa matrice. Devo verificare che questo determinante è uguale a 0. 4 per 1 ed ottengo 4 meno 4 per 1 ed ottengo 4 e quindi effettivamente Dx è uguale a 0. Faccio ora la stessa cosa con DY. Sostituendo al posto di A2 ottengo questa matrice. Vado ora a stabilire se il determinante è uguale a 0. 2 per 4 ed ottengo 8 meno 2 per 4 ed ottengo 8 e quindi ottengo determinante uguale a 0. E allora la certezza che quando A è uguale a 2 il sistema risulta essere indeterminato. Vediamo quest'ultimo esempio. Dato il seguente sistema determina il valore del parametro A in modo che sia indeterminato. Come prima cosa vado a determinare la matrice dei coefficienti D e allora scrivo D uguale. Nella prima riga scriverò i coefficienti di x e di y della prima equazione ed avrò A meno 1, A più 1, A più 1 ed A meno 1. A partire dalla matrice dei coefficienti D scriverò Dx, ossia la matrice che si ottiene da D dove nella prima colonna al posto dei coefficienti delle x vado a sostituire i numeri meno 2A, 2A e poi ricopio A più 1 e A meno 1 di y è la matrice che si ottiene a partire da D dove nella colonna delle y vado a sostituire i numeri, mentre questa colonna la ricopio così com'è. E quindi ho A meno 1, A più 1 e poi meno 2A, 2A. Affinché il sistema risulti indeterminato, il determinante della matrice dei coefficienti deve essere uguale a 0. Inoltre deve essere uguale a 0 il determinante di dx e il determinante di dy. Parto da D e impongo che questo determinante deve essere uguale a 0. A meno 1 per A meno 1 ed ottengo A meno 1 alla seconda, meno A più 1 per A più 1 ed ottengo A più 1 alla seconda e lo devo imporre questo determinante uguale a 0. Ho così un'equazione in A che vado a risolvere. A conti fatti si ottiene A uguale 0. Ora in dx e in dy al posto di A sostituisco 0 e verifico che i loro determinanti siano uguali a 0. Per dx sostituendo al posto di A 0 ottengo questa matrice. Ne calcolo il determinante 0 per meno 1 ed ottengo 0, meno 0 per 1 ottengo 0 e quindi 0 meno 0 è pari a 0 e quindi effettivamente dx è uguale a 0. Faccio ora la stessa cosa per dy. Sostituendo al posto di A 0 ottengo questa matrice ed ora devo verificare che il determinante risulti essere uguale a 0. Meno 1 per 0 ottengo 0, meno 1 per 0 ed ottengo 0 e quindi effettivamente ottengo 0. E allora la certezza che quando A è uguale a 0 questo sistema risulta essere indeterminato. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere problemi parametrici con sistemi lineari.